No, ma che fate? Tornate indietro! Tornate indietro! Sono troppi! Tornate indietro, non potete farcela! Tornate indietro! No! Cosa fate? Tornate indietro! No! Non puoi farcela! No! Ma cosa fai? Cosa stai facendo? No! No! Perché? Perché? Sta vendendo il suo popolo! Infame! Ha venduto la gente! No! Perché? Vano! È stato tutto vano! Resistere! Non è servito a niente! No! Perché?